Lei era proprio così, era molto, molto... Chi è? La sveglia. Ma qualcuno ha suonato la sveglia. Beh, brutto segno, se mettono la sveglia durante lo spettacolo. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. Applauso. E vai. Qui con me, di fronte a me, alla mia destra, Stefano Rapone, ragazzo meraviglioso nel nuovo set. Ti piace? Eh sì, mi fico di abituare. A me piace, guarda, mi piace molto, mi sbilancio. Sì, sì. Sono contento. In cartone, pressato, vabbè, già l'abbiamo detto nella puntata 200 che già è uscita nel futuro. Però mi piace. Come stai? Bene, bene, non c'è male, tu? Non c'è male. Tutto a posto. Che hai fatto? Novità? No. Sto andando al cinema. Sto andando al cinema? Sì. Chi hai visto? Ho visto un po' di cose. Come si chiama? Zona di interesse. Bello. Film rilassante. Mezzo sì, cioè comunque sia, sì. Past Lives, bello. Non lo conosco. Poi che ho visto. Altre cose che non mi ricordo, ma belle pure quelle. Cioè non becco un film brutto da un po'. Ti hanno colpito, vedo, queste cose. Come sai, io la memoria a medio termine l'ho accartocciata anni fa. Però mi ricordo le sensazioni, sensazioni piacevoli al cinema. Bello, bello. Tu che stai a fare? Io sto a giocare a PlayStation. Bravo, a che stai a giocare? Ho uscito Final Fantasy Rebirth. Quindi niente, sto a fare quello e basta. Stai a fare quello. Dove l'hai messa la statua di Sephiroth? È su una mensola troppo alta perché non c'entra... Cioè comunque è una bestione così grosso, quindi devo trovare un posto. Dovrei farmi una vetrina per i pupazzi. Ah, una vetrina. Cioè non più una libreria, bensì una vetrina. Sì, sì, perché troppo... Come le fumetterie, casa tua comincia a diventare come una fumetteria. Sì, sì, fumetti, pupazzi. Tutto quello che hai sempre sognato. Sì, sì, infatti. Sono contento per te. Te sei visto la Ferragni da Fazio? Eh no, perché stavo a giocare a PlayStation. No. Non l'ho visto. Giusto, le priorità. Sì. Le priorità sono quelle. Che com'è andata? Ti dico, niente di che... Cioè, però è stata proprio una cosa un po'... Lui non le ha fatto mai domande ficcanti, hanno fatto una chiacchiera così, sì. Tipo noi qua tintoristi. Sì, esatto, bravo. Esattamente. Operazione simpatia, diciamo. Se fosse venuto da noi sarebbe stato uguale. Chiaro, sei una grande... Perché tu volevi più cose più corpose, più ficcanti. No, guarda, ti dico la verità. Io comunque gli avrei fatto qualche domanda in più, perché comunque... Cioè, lui continuava a dire tipo, ah ma... Che è successo, sta cosa dei Pandori? E lei diceva, no, c'è stato un problema di comunicazione. Se qualcuno non ha capito, vuol dire che sicuramente c'è stato un problema di comunicazione. Fine. E invece io avrei insistito. Avrei insistito. Chiara, magari per te è chiara questa cosa. Chiara, magari per te, perché comunque sono un comico. Anche i giochi di parole sono il mio pane quotidiano. Non mi è uscito per sbaglio mentre parlavo. Ho detto, Chiara, per te è ovvia questa cosa della comunicazione. Per noi è un po' più complicata, se ce la puoi spiegare meglio. Lei dice, eh, a volte quando fai comunicazione le cose possono andare storte, no? Cioè tu programmi la comunicazione in un certo modo, programmi un contenuto in un certo modo. E poi magari le cose vanno storte, la comunicazione si inceppa o rallenta. E Fabio Fazio l'avrebbe mollato. Invece l'avrei detto, Chiara, però te sei una content creator da sempre, il marketing veramente ci sguazzi dentro. Però per noi non è così. Per favore, faccio un esempio perché non stiamo proprio capendo quello che stai cercando di dirci. E lei a quel punto avrebbe detto, fai finta che la comunicazione sia il web e che i Pandori siano la connessione. Quello che avrei dovuto fare, incalzata a quel punto avrebbe detto, sarebbe stato usare NordVPN. E a quel punto io, slash Fazio, avrebbe detto, conosci NordVPN? E lei avrebbe detto, certo, perché mi stavo vedendo la puntata di Tintoria con C'è Conne e Balbuntin, perché mi fanno mega ridere quando dicono ci inculiamo. E in descrizione ho visto un link, ci ho cliccato e ho detto, madonna ma questo sconto me lo posso permettere pure io adesso, che è un periodo insomma devo stare un po' attenta coi soldi perché è tosta. e quindi avrebbe avuto accesso a NordVPN tramite nordvpn.com slash tintoria e così la comunicazione di Chiara avrebbe viaggiato libera, sicura. Protetta. Protetta. Certo, una bella conversazione immaginaria, sono molto contento che tu l'abbia fatta. Ma così sarebbe andata, eh? Poi sai che oramai siamo oltre la puntata 200, siamo due squali, sappiamo capire esattamente come vanno le conversazioni, basta che le immaginiamo. Certo, certo. Infatti sai cosa avrebbero detto i bambini nell'ospedale a cui sono arrivati meno soldi rispetto a quelli che si parlavano? Non riesco a immaginarlo, cosa avrebbero detto? Avrebbero detto forse basta un click. Ma certo, e anche questa sera. E anche oggi abbiamo fatto il nostro lavoro, il nostro mestiere. Il nostro mestiere, ma non è certo grazie alla beneficenza che sia arrivata a questo numero di puntata. Neanche alla mancanza di comunicazione. Neanche alla mancanza di comunicazione, perché qui c'è anzi sovrabbondanza di comunicazione in questo podcast. Però deve essere grazie agli ospiti straordinari che abbiamo la fortuna di invitare ogni volta, quindi senza ulteriori indugi invito l'ospite di questa puntata. Signore e signori, solo per voi Giancarlo Magalli. Come se non ci fossero mai visti. Sì, dobbiamo fare questa scena. Bene, buonasera. Scusate quella che ho fatto io decena, ma io ancora non sono guarito del tutto. C'è dei gradini, ogni gradino è alto come ben in casa. Quindi molto alti. Molto, molto, molto. Gradini molto alti. Scusate, sono vestito bene, ma ho lavorato con delle persone civili. Vengo da un luogo di lavoro dove c'è gente, insomma, anche che ha studiato, che guadagna. Sì, sì, incensurata, certo. Incensurati, con degli armadi, gente, gente, non mi manca niente. Certo. E quindi eccoci qua. Siamo qua. Allo snodo. Allo snodo, insieme a tutta questa bella gente. Ma adesso approfitti se le luci sono spente. Prima o poi le accenderanno e ti dirò cosa sembra. Però, già, io mi sto abituando a voi, quindi non è, insomma, tutto sommato. Sì, sì, diciamo, noi siamo l'asticella, più o meno tutti oscillano. Sì, un po' alla volta. Più o meno sarà così. Da voi si arriva a tutti. Qualcuno meglio, qualcuno persino peggio. Esatto. Per carità, per carità. E quindi? Quindi intanto grazie mille di essere venuto all'ospediatto. Perché io a Stefano si era... Allora loro pagano per stare qua. Loro pagano. Perché a noi non ci paga nessuno? Guarda... No, per dire, ecco, sappiate questa differenza. Voi avete dato dei soldi che si sono fermati, però... Si fermano lì, tutto. Lì, ci sono fermati. I soldi non si sono riusciti a fare i gravini e ci sono fermati là. Ci sono arrampicati, ma inutilmente. Sopriamo l'acqua, queste cose qui, le pire, queste cose, queste cose qui. Non sono neanche sicuro che sia potabile. Se senti il tappo è leggero, leggero. Viene da un naso del mantriolo. Io guardo questo podcast e devo dire che mi diverte. Lui l'ho sfiorato alla gialappa, lo conoscevo. Abbiamo fatto la gialappa, però due cose di venuto. C'era il suo personaggio molto preciso, carismatico. Io ho fatto un po' il deficiente in una puntata, che mi viene benissimo. E ho già pronto il deficiente della prossima, perché vado venerdì a registrare. Possiamo fare questa anticipazione, quindi. Faccio! Si può dire, non è vero? No, dico, perbacco. Certo. Vado a fare il quattro motel. Ah, certo. Quella cosa che fa Pantani. Sì, sì, sì. Come no? Faccio il proprietario di un motel. Bellissimo. Verrà divertente, penso. E quindi, insomma, te ti conoscerò. Poi ti ho rivisto qua. Mi fa ridere. Lui mi fa ridere. È fortissimo. Non perché sia comico, no, perché è proprio strano come è fatto. È curioso. Sta sempre arravogliato su sta poltrona. Sta sempre così come un granchio, come una parla pianissimo. Sono le sue qualità, le stai elencando tutte. Come un granchio, parla pianissimo. È proprio Stefano Rapone. Sono io. Che si è preparato anche delle domande. Sì. No, non ci credo. Una domanda apposta per te. Avrei riciclato quelle che hai fatto a Pupo. Magari, ma Pupo lo aspettiamo a braccia aperta. Eh, quello c'ha da fare. Quando vuole. Vabbè, dai. Come stai? L'hai visto, una schifezza. Più o meno una schifezza. No, ho pensato bene di arrivare alla mia età bene, Cagliardo. Non so, facevo un sacco di cose che tu non hai fatto quando avevi la mia età. No, ma certo. E poi mi sono ammalato. Mi è venuta una malattia stronzissima che si chiama linfoma. Che quando... Sai, cazzo, linfoma? Perché tutti fanno la faccia. Oh, non si scherza con linfoma. Però, in realtà, poi dopo, ma subito dopo, i medici sono molto rassicuranti. Mi ha detto, sai che lei aveva due mesi di vita? Di cazzo, sono contento. Mi fa piacere che me l'abbia detto. Ah, dopo? Dopo che sei guarito. Dopo che mi ha detto, no, no, ma l'abbiamo presa in tempo. Guardi, i linfomi, nove su dieci guariscono. Ha detto, vabbè, io non sarò mica proprio quello, quello l'unico che non guarisce. E infatti, sono guarito. Solo che è stato faticoso, devo dire, è stato faticoso. Anche se non ho mai sofferto, non ho mai stato male, niente. Ho fatto qualche iniezione. Però sono stato molto a letto per curarmi. E questo poi provoca. Già io non camminavo prima, proprio per principio. Stare molto a letto ha provocato. E quando mi sono alzato dal letto, ho detto, ho detto, e andò vado. Quindi ho dovuto fare la fisioterapia e la sto continuando. Però normalmente nelle case non ci sono quei gradini. No, certo. Alla RAI neanche. Non ci sono ostacoli. Come si dice, barriere architettoniche. Non sono solo barriere intellettuali. Ma architettoniche no. No, però ti vedo bene, insomma, comunque. Beh, già che me vedi è un risultato. E' una cosa buona, ecco, perché per un periodo magari non... Eh no, no, sono contento. Per i due mesi, capito, poi non mi vedevi più. Invece no, no, no. Ma di fatti sto abbastanza bene. Purtroppo non sembro più un ventenne, ma per colpa della malattia. Che prima ero proprio un ragazzino. Adesso invece sono diventato un vecchio rincoglionito. Ma la colpa è del linfoma. È del linfoma. Assolutamente. Stefano, mi sa essere anche preparato un'altra domanda. Ma va, due, addirittura. Due, addirittura. Poi poi si ritira. Ah beh, lui lo pagano, giustamente. Che hai fatto oggi? Che ho fatto oggi? Stamattina ho fatto i fatti vostri. Fatti vostri, a differenza del linfoma, non guarisce. Continua per sempre quello. Si continua tutta la vita, sempre. Io sono 25 anni, ho fatto i fatti vostri. Poi facevo anche altre cose parallelamente. Ho fatto anche altri programmi insieme. Per i fatti vostri c'era sempre comunque. Prima come conduttore unico, poi un paio d'anni fa, prima di ammalarmi per la verità, ho detto, ma se io smettessi, ho capito che non è illegale andarsene dai fatti vostri. Si può fare. Non è anticostituzionale, insomma. Mattarella, non si incazza se te ne vai dai fatti vostri. Allora ho detto, me ne vado. Ho detto, Cagliardo, mamma, riposo, vado a fare i viaggi con le mie mogli, con i miei figli. E invece me sono ammalato. Quindi è una fregatura assoluta, perché ho smesso quello. Però, vabbè, fra le varie cose che ho ripreso, le scale, ancora ci stiamo lavorando, però i fatti vostri li ho ricominciati. E il martedì mattina faccio una rubrica, abbastanza carina, devo dire che va bene, come ascolto, sui personaggi che io ho conosciuto nella mia vita. Perché, insomma, io ho tanti anni che lavoro. e nel mio lavoro ho frequentato, conosciuto e lavorato con tanti personaggi. Quando l'ho messo in fila, ho detto, madonna, e poi a ognuno sono legati dei ricordi. Cioè, io ho lavorato con Totò, cioè, capisci, Totò è morto nel 67. Io ci ho lavorato, però, come Consordi, Tognazzi, Manfredi, Monica Vitti, Raffaella Carrata, tutti, praticamente. E per tutti ho qualche ricordo, qualche episodio, non me lo chiedere, cose divertenti. E allora ho detto, ma perché non fare questa rubrica, che dura un quarto d'ora, insomma, però va bene, funziona, sono delle curiosità divertenti. Quindi stamattina ho fatto questo, che è una cosa buona. Poi sono andato a mangiare dalla mia seconda moglie, che cucina meglio della prima. Molto, molto meglio. E quindi sono andato da lei, che cucina meglio, però lavora in una farmacia, quindi casomai, insomma, c'è tutto. L'inno, la lavanda cassica immediata. Però, no, no, poi ci lavora pure la mia seconda figlia, quindi, insomma, è una cosa di famiglia. Io vedo una famiglia, un giorno, una famiglia, tutta ex famiglia, perché mi sono separato da tutte, però siamo rimasti amici. Guarda che è una cosa curiosa. Questo ti dovrebbe dire quanto io sia di buon carattere, ecco. Lo capisci? Qual è il segreto per rimanere in buoni rapporti con le ex? Dare i sordi a tutti. Senza pensarci. La risposta deve essere sempre solo? Ma di più, amore? Ma di più? Quella è la risposta esatta, l'unica consentita. No, e poi, veramente, non lo so, con tutte e due le mogli ho avuto una figlia, quindi in entrambi i matrimoni c'era una figlia da crescere, da non far sentire sola, eccetera. E questo, insomma, poi soprattutto ho avuto due donne intelligenti, questa è la cosa. Ho avuto due mogli che hanno capito, che hanno collaborato, che hanno incassato e poi mi hanno... sono state gentili. E io, devo dire, noi facciamo dei Natali a casa, ho le foto, perché se no non ci credono, a Natale, io faccio Natale con la mia seconda figlia, la mia prima figlia, la mia seconda moglie, la mia prima moglie, il secondo marito della mia prima moglie e il figlio che hanno fatto insieme, è una cosa, cioè occupano una casa solo loro, però ci divertiamo, stiamo bene, facciamo i regali, chiacchieriamo. Poi la mia seconda moglie si è sposata con uno chef, quindi capisci che... Ah, ecco perché vai... Certo, mangiare lì. Quello cucina... Poi non è lo chef, capito, quelli che fa... Io vuoi una salsa di rucola, una pennellata di assogra, di noce di mandorla, ma vaffanculo, quello fa lo stufato, fa degli stufati che sono una cosa che... maiali interi, cose fa... bravo, mi piace, quando mi invito a cena è una gioia. E oggi che hai mangiato, a pranzo? Oh, no, ebbè oggi sono andato in farmacia, lì non cucina, in farmacia un po' cucina, andiamo a mangiare in una... in una... rotticceria, non so come chiamarla, che sta lì a canzo. Ci sono due posti lì, un ristorante di quelli romani, fortissimi, dove c'è la signora Paola, che è la signora Carla, la proprietaria che è meravigliosa, che se siete al tavolo con te, quando arrivi ti recita il menù in un quarto d'ora, non so, sempre le stesse cose, ti caga, e noi non moriamo, sempre quello fa... no, no, perché qui le cose romane ce l'avevamo tutte, carbonara, matriciana, grigia, poi se vuoi c'è la sua coda, ce l'hanno queste cose qua. Ed è divertente, si mangia bene, oppure andiamo in questa rosticceria, oggi siamo andati in là, mangiare un fettuccino, ma niente di che, insomma. Bello. Però è bello, insomma, ecco questo, avere più tempo per le mie famiglie mi fa piacere, mi rende felice, devo dire. A proposito di famiglie, noi chiediamo sempre agli ospiti come hanno cominciato il loro percorso professionale, perché il percorso professionale ognuno è diverso, però con te volevamo partire ancora prima, perché... Prima gli ipterodatti li volavano, non c'era... Prima della televisione, prima ancora di quando facevi l'animatore, tuo padre lavorava nel cinema. Papà mio, sì. E quindi tu stavi già da bambino piccolissimo nel mondo del cinema. No, ero la mascotte delle troupe, dei set. Papà faceva il direttore di produzione di quel cinema, là, parliamo degli anni 50, quindi papà lavorava con Blasetti, insomma, ha fatto film belli, insomma, allora poi i cinepanettoni c'erano, quindi i film erano belli o non erano, o magari non venivano bene, però non è che si facevano male apposta, ecco, come adesso. Allora, poteva venire male, però adesso ci sperano. papà faceva il direttore di produzione e io avevo due, tre, quattro, mi portava sul set. Siccome io ero uno vispo, insomma, come ragazzino, mi sono incoglionito dopo, allora ero... E mi coccolavano tutti i fegisti, i operatori, cose, per esempio a volte quando si girava la notte, a me mi facevano una cuccia da una parte del set, io mi mettevo a dormire, ogni tanto veniva qualcuno, il direttore della fotografia, l'aiuto regista, venivano, stai bene, ti serve, devi fare pipì, stai al posto, non c'hai sonno, vabbè, venivano a controfagliare i turni per vedere come stavano. Fra le persone che giravano sul set, c'erano delle persone che io non sapevo ovviamente chi fossero, c'era uno che per esempio mi prendeva un braccio e diceva parole che io non capivo. Ho capito poi perché non era colpa mia, lui era americano, io non ho capito. Ed era Henry Bogart, cioè capito, io sono stato sulle ginocchia di Henry Bogart, capito? Tu al massimo. Massimo, sì, ginocchia depinti, infatti. Quando andate in giro, per un motorino, in due, insomma. È povero. Va proprio così, in due, è proprio... come i vecchi tempi. Poi c'era una signora molto bella che mi prendeva in braccio e quello mi piaceva perché era molto affascinante questa signora e ho scoperto che era Ava Gardner. Certo. non so se mi spiego. Poi, siccome i macchinisti sono dei figli di buona donna, cinema, cioè i macchinisti sono quelli, si chiamano Faccioletto, hanno questi nomi, i soprannomi, orendi. C'è quello famoso che raccontava anche Borolis a Cinecittà c'era il macchinista c'era un orecchio solo. Uno l'aveva perso quindi c'era solo un orecchio. Quello chiamavano Ertazzina. Certo. Certo. C'era una categoria particolare. E allora mi approfittavano della mia innocenza. No, nel senso buono. No, certo. sì, chiaro. Cioè, mi chiamano Giancarlo, vieni, senti, senti, vedi quella signora mi diceva, no? Si chiama Gina, fai vedere il pisello. Io ero buono, docile, insomma, anche servizievole e andavo e dicevo Gina, tu, e tiravo. C'era i calzoni corti quindi era anche facile. E Gina rideva, capito? Però non è stata più la stessa poi dopo, per tutta la vita. Anche se mi ha dato un grande dolore perché poi da grande io l'ho conosciuta, l'ho intervistata, siamo diventati amici anche con lei. E io una volta si tira, ma ti ricordi, ragazzi, ragazzi, sul set che ti fece di te? E mi dice, no. Ha rimosso. dico mentire, guardate il pisello non ti ricordi. Che donna sei? Come funziona? E non se lo ricordavo, io pensavo di averla marcata per sempre, insomma, che fosse una cosa incancellabile. Ma era Gina Lollobrigida? Gina Lollobrigida, la bersagliera, capito? E se n'è andata così, senza... Senza ricordare, non l'ultima immagine che poteva essere quella e non era quella. Chissà di chi era. Io lo so, a questo punto. Non era il mio. Non era il mio. Peccato. E quindi il cinema, sì, l'ho visto così quando ero piccolo. Per esempio, papà fece un film che ogni tanto fanno in televisione, era di Blasetti, si chiamava Prima Comunione, con Aldo Fabrizi come protagonista. era un bel film. Ogni tanto lo fanno è carino da vedere, è una storia anche un po' sentimentale. E c'era una scena nel film in cui Fabrizi pensava al futuro, insomma, una specie di sogno in cui si vedeva vecchio attraversare un ponte, chissà, un simbolo di qualche cosa, per mano con un bimbo che era il suo nipotino. Il giorno in cui bisognava girare questa scena, il bimbo che era uno attore, non venne, San Malò, non so che cazzo gli successe. E allora, come si fa, non c'è il bambino, non c'è il bambino. Blasetti disse a mio padre, Enzo, ma tu non c'è un ragazzino di quell'età? Sì, e porta tu figlio, tanto deve solo dare la mano a attraversare il ponte. E allora papà venne di corsa a casa, mi disse, vieni, vieni, di che è successo? Vieni, 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 si va, divertente, vedrai. Mi portò, e il ponte era quello davanti al foro italico, ponte Duca d'Aosta, che allora si girava tutto là, perché tutta quella zona, Flaminio, lungo Tevere Flaminio, era stata appena costruita negli anni 50, quindi a differenza delle altre zone era pulita, e allora si girava là, perché sembrava da Roma tutto bello, bianco, ordinato, già dopo due anni faceva schifo, però all'epoca era tutto pulito. E allora arrivo su sto ponte, dico, ma che devo fare? Dice, c'è un signore, gli devi dare la mano e ha attraversato il ponte? Io andai, mi portò da Fabrizio, io ero piccolo, vedi quest'uomo enorme con sta panza, con sta pancia con il mio ragazzo, e si ha la mano a quello noiato, sai come, dobbiamo girare, allora io c'ho paura non gliela do, e non gliela detti, dovessero cercare un altro ragazzino per fare questa cosa qua, perché io non voglio dare la mano a Fabrizio, che poi ho conosciuto in realtà con Fabrizio, ci ho fatto due film con Fabrizio, ed era in effetti uno da staccio attento, perché c'era un carattere, nonostante la bonarietà dell'aspetto, era uno molto aspro, molto duro, però con me è sempre stato gentile, a me mi chiamava Erpischello, ma non mi vedeva, Erpischello, allora che bozza, fa sempre imitazione mia, va bene, scherzavamo, ridevamo, però aveva un carattere, lui, la verità è che odiava Anna Magnani, la odiava moltissimo, e noi gli perdonavo al fatto che a Roma, città aperta, la Magnani, un po' di successo, gliel'aveva rubato, allora, quando ho fatto il cinema io, perché poi ho voluto seguire le impronte di papà, e la cosa in cui l'ho emulato meglio, è la disoccupazione, perché il cinema era quello, papà mi diceva, ma che vuoi fare il cinema, vedi che sei lavora due mesi e poi stai quattro mesi fermo, dico vabbè papà però è bello, ma che è bello, non si fa, papà ha cambiato lavoro nel frattempo, faceva l'assicuratore, che per me era una specie di una condanna, penale, fare l'assicuratore, e lui mi diceva, però, che era saggezza, mi diceva, ricordate che nella vita i sordi te poi divertì a guadagnarli, o a spenderli, facendo l'assicuratore non ti diverti a guadagnarli, però guadagni bene, quindi ti divertirai a spenderli, a me non mi ha convinto per niente, sa cosa, quindi ci ho provato due volte e due volte sono scappato dalle assicurazioni, però, insomma, i suoi consigli li sentivo, li seguivo, e ho voluto fare il cinema, quando ho fatto il cinema io facevo il segretario e poi l'ispettore di produzione, mi è capitato di lavorare con Fabrizi, con Totò, con altri, con Fabrizi, e la cosa che era divertente, era, quando giravamo in esterni, Fabrizi non voleva il cestino, e lui era il cestino, quando, in stabilimento, tanto, tanto, ma fuori non lo voleva, allora si informava dove si girava, a quella città, un'osteria, le parti che fanno la carburale, andavamo a mangiare là, e allora, un gruppo ristretto, lui, regista, direttore, ispettore, direttore della fotografia, una decina, 10, 12 persone, andavamo a mangiare dove sceglieva lui, ci sedevamo, in genere all'aperto, perché poi il cinema sono sempre l'estate, ci sedevamo all'aperto, mangiavamo quello che voleva lui, che come lui doveva assaggiare, si metteva là e decideva lui, il cameriere diceva, allora cosa prende, guarda, a lui le porti la carbonara, a lui la matriciana, a lui prende la pasta e facioni, ma tu pagani, tu lavori, ma la dovevi prendere, perché poi quando andava lui piava il cucchiaio, andava a mangiare nei piatti di tu, assaggiava da tutti qua, e quello però era il preludio, perché poi si arrivava al pezzo quello che a me mi piaceva tanto, cioè qualcuno di questa banda di figli e buona donna, piano piano introduceva l'argomento, diceva il commendatore, certo che lei, che grande carriera, che ha fatto, beh, insomma, beh, no, lei ha fatto film bellissimi, ha fatto cose molto belle, ma sì, tutto sommato, ha fatto capolavori, Roma città aperta, e dice, ma quello, è venuto bene, quello io ho suggerito, io quello, Rossellini capiva un cazzo, gli ho detto tutto io, come lo doveva fare, gli ho prestato pure i soldi, e quello era vero, gli aveva prestato i soldi per finanziare il film, perché la produzione non ce l'aveva, quindi ci ha messo pure i soldi Fabrizio, e allora, uno, della combriccola, a turno, quello della paglia più corta, diceva, beh, il commendatore, quello è un capolavoro, e poi ha lavorato con la grande Anna Magnali, e lì era la poteosa, cominciava a strillare, libertacci, dove fa, le quattro, con se la, quella, mi ha fregato il successo mio, quella, il film mio, che mi ha fatto finita di casca, sta guitta, e partiva, con sta Filippi, e noi, cattivi, ridevamo tutti, sotto, sotto la matriciana, ridevamo, eravamo andati per quello, insomma, il motivo era quello là, ed era molto divertente, poi, se volete, ve lo cercate, c'è un, una registrazione, su, YouTube, una cosa del genere, di un audio, di un'intervista a Fabrizio, fatta da quelli, tipo Mazzarella, che gli face un'intervista, e gli dice, come è stato Fabrizio, che lei, perché lei, si debbono anche, tante, la grande, Anna Magnani, lui, dice quello, che diceva, l'istorante, e c'è proprio la registrazione audio, che conferma, che questo era il suo, atteggiamento, perché, insomma, lui aveva il suo bel, garantire, questa cosa, ma io pure, mi sa anche della sorella, poi era geroso, che aveva sentito, e non la voleva far lavorare, gli diceva Fabrizio, c'era già uno, va, va a fare la coca, lei, faceva la coca, pure bene, però, gli piaceva, fare l'attrice, gli ha fatto fare due film, dunque, lei ha fatto l'attrice, in, I soliti ignoti, che fa, una delle, signore, dell'orfanotrofio, dove è cresciuto, Salvatore, quando lui, si va a fare prestare i soldi, poi ha fatto i tartassati, dove c'è Totò, e, e, che, a un certo punto, con Fabrizio, che fa quello delle tasse, ti ricordi, no? E, insomma, vanno a caccia insieme, gli spara, e vanno a finire all'ospedale, con i palli, e l'infermiera, e, la sorella, e poi, Totò, Fabrizio, i giovani d'oggi, dove lei fa la proprietaria del ristorante, a cui, Fabrizio chiede, ma qui, i matrimoni, chi paga? Il marito, i parenti, la sposa, dello sposo, eccetera, questi, poi altri, non glieli ha voluti far fare, perché, era geloso, infatti, lei, quando è morto Aldo, si è liberata, poi ha trovato Verdone, però, lei, è la caruccia, era pure amica, io l'ho invitata, in un sacco, ma ha fatto, non ha creato qualche casino, ovviamente, tipe che c'era, non so, vi ricordate, Fassari, non è inutile che fai così, non te lo ricordi, io pensavo Antonello, Antonello, eh sì, me lo ricordo, ah, non lo ricordo, ah sì, sei lucido ancora, ah sì, sì, no, ci sto, ci sto, ma lo ricordo, eh, Antonello, che era fino al mio avvocato, il padre di Antonello, era l'avvocato Svaldo Fassari, penalista, di grido, non so chi gridasse, però era, era fantasi, io ogni tanto l'andavo a trovare, c'era lo studio a Via Crescenzo, il padre di Antonello, un bello studio da avvocato, erano due, lui e Rescigno, un civilista, e nella sala, nel salottino di attesa, diciamo, c'erano delle librerie, con dentro gli atti, dei processi, che lui aveva, dove lui aveva fatto l'avvocato, e io, quando aspettavo, me li guardavo, erano tanti i processi famosi, l'aveva persi tutti, e gli ha detto, ma che ce li metti, ti ha fatto la gente, gli ha detto, andamocene, questo non ha vinto un processo, mi vedi da sua, però era considerato un grande avvocato, e aveva suo figlio, e lui mi diceva a me, questa va a fare l'attore, va a fare l'attore, e diceva, non si può curare, che vuoi, dai, dagli una mano, ma che gli faccio fare, e infatti, poi fece i cesaroni, ed ebbe successo, e fa, rifaceva l'imitazione della soralella, la te la ricordi, non ti ricordi, non ti ricordi, non ti ricordi, l'abbiamo perso, e faceva l'imitazione della soralella, se restiva uguale, con tutti gli anelli, le qua arrivava su una carriola, tutta grazia, si sedeva in una carriola, c'era uno che la spingeva, e entrava in scene, e io una volta, ebbi questa bella idea, di farli incontrare, ma a sorpresa, quindi c'avevo la soralella, sul divano ospite, e dissi, soralella, le ho preparato una sorpresa, guardi chi è venuto a trovarla, la soralella, si apre la costa, entra a fassere, lei, in diretta su Rai 1, come lo vede fa, qual figa che è una mignotta, ma che lo possino ammazzarlo, ma mi fa una caricatura, ma che io so così, che so grassa, che la panza, che così, ma che cosa, ma no, quella è una stronta, allora, me fece, bellissimo, una parte, perché lei era proprio, era molto, molto, chi è? La sveglia, ma qualcuno ha suonato la sveglia, beh, brutto segno, se mettono la sveglia, durante lo spettacolo, non è un buon segno, no? Anche questo, è vero, poi mi piacerebbe, mi piacerebbe capire come hanno deciso che la sveglia andava messa alle 10, infatti chissà che, hanno detto questi, per le 10 qua si dorme, metti alle 10, se parla di fast, la previsione, ma invece, l'hai citato due volte, com'è stato lavorare con Totò? Totò era, era un grande, io, era già un mio mito, ovviamente, quindi, per me era lavorare con un mito, però lui non era uno molto di compagnia, insomma, era principe, anche se poi, non lo era del tutto, però, cioè lui era figlio di un marchese, che però non l'aveva riconosciuto, la mamma, la signora Anna Clemente, lavorava da sto marchese, a servizio stava, al palazzo del marchese, è rimasta incinta, e il marchese, gli ha detto, affari tuoi, e non l'ha riconosciuto, gli dava qualche soldo, al marchese poi, stava spiantatello pure lui, però il figlio non l'ha riconosciuto, infatti, Totò, quando era piccolo, si chiamava Antonio Clemente, aveva preso il nome della madre, il cognome della madre, perché quello del padre, non gli era stato dato, e lui si sformava tanto, siccome abitava di fronte, ogni tanto andava dal marchese, il marchese lo trattava bene, cioè non è che faceva finta, e non conosce, e lui diceva, marchese, perché non mi riconosci, no, 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 se ti serve qualche cosa, però non mi chiede cose, no, 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 e quindi lui rimase per parecchio tempo, Antonio Clemente, poi cominciò a lavorare, ad avere successo, e a guadagnare, il marchese non c'aveva una vita, e allora lui fece, tentò il colpo, andò dal marchese, gli disse, faccio una proposta, se tu mi adotti, insomma, mi riconosci come figlio, e mi dai il tuo cognome, io ti do uno stipendio, ti pago, ogni fine mese, e ti do dei soldi, e il marchese, che stava in bianco sparato, disse, va bene, e se cosa si fece, e Totò diventò il marchesino dei Curtis, perché quello era il marchese dei Curti, poi gli prese l'ebrezza della nobiltà, fece studi araldici, spese un sacco di soldi, e alla fine diventò imperatore, più di quello non lo poteva, imperatore di Bisanzio, Focas, Ducas, Comneno, c'era un biglietto da visi, a lungo così, però lui ci credeva, aveva speso veramente una cifra. Perché poi compare titoli, che faceva? Comprava? No, l'araldica, le società di araldica, se tu ce vai, e dici, senta, vorrei sapere se sono quelle mie ascendenze, quelle anche se capiscono che sei un monnezzone qualunque, nel tuo caso, ti levano un po' di soldi e ti dicono, ma sai che abbiamo scoperto che lei discende dai duchi di Roncobilaccio, che è una famiglia, e guardi, abbiamo trovato delle carte, che secondo me, la sua famiglia era imparentata con i marchesi del Fossombrone, se vuole continuiamo, e tu dici, prego, continui, quanto, quanto è? Più paghi, più sali, barone, conte, principe, poi, più dei principe, c'è solo re e non te possono fare re, quindi, però a lui l'hanno fatto imperatore, insomma, gli è costata una cifra, però lui era contento, c'era tutti i stemmi, c'era una macchina americana, bellissima, una Cadillac, allora poi non erano comuni, con cui arrivava al lavoro e aveva lo stemma sugli sportelli, dipinto sugli sportelli, c'era lo stemma di famiglia, dei Focas, di Bisanzio, e ci teneva a essere chiamato principe, perché a noi poi, soprattutto, i registi e i colleghi, tipo, di notare, lo potevano chiamare Antonio, ma noi, gentaccia, lo dovevamo chiamare principe, e lui però era cortese, era sempre gentile, rispondeva, però non parlava molto, perché era aristocratico, aristocratico, e quindi stava, poi poveraccio, quando io ci ho lavorato già non ci vedeva più, aveva questo problema alla vista, aveva difficoltà per lavorare, era molto faticoso, aveva bisogno di una persona, che poi era il cugino, Edoardo Clemente, che l'accompagnava in giro sul set, gli spiegava dove stavano gli ostacoli, le cose, qua c'era bottiglia, qui c'era sedia, lui lo imparava a tentoni, e poi, porca miseria, quando si girava era una magia, partiva, girava, faceva, non faceva casca niente, una volta in uno dei film che ho fatto con lui, era Diabolicus, giocò a biliardo, si imparò dove stavano le palle, le cose, e giocava a biliardo, noi diciamo, ma questo ci piglia per il culo, questo ci vede, e invece, poveraccio, no, non vedeva, ma era professionista, bravo, improvvisatore, aveva tutti i pregi, ed era, era bello, insomma, per me, vederlo, stare là, io poi, andavo solo a dirgli, principe, il regista ha detto che si gira, va bene, vengo subito, grazie, questo è stato il massimo della conversazione, più di questo, non ci siamo mai detti, no, una volta, ruppe un vaso, ruppe un vaso, e io andai a levare i cocci da mezzo, e lui mi disse, senta, giovanotto, mi faccia sapere quanto costa quel vaso, perché lo voglio pagare, e gli ho detto, no, principe, ma le pare paga il vaso, no, no, lo voglio pagare, ho fatto un danno, è giusto che lo paghi, e gli ho detto, ma no, guardi, c'è l'assicurazione, è tutto assicurato, paga l'assicurazione, ma lui insisteva per pagare un vaso, delancati, una merda, era costato 200 lire all'epoca, però lui lo voleva pagare, perché lui era molto, e aveva questo autista, che si chiamava Caffiero, uno altro altro, a cui lui leggeva tutte le sue poesie, le canzoni, Caffiero era il primo a saperle, in macchina, nel tragitto, dice Caffiero, senti se ti piace, ogni anno, il 2 novembre, c'è l'usanza, per i defunti, andare nel cimitero, dice non è male, dice Caffiero, ignorante, analfabeta, non è male, e la Toto la pubblica, e lui dice, no, no, è brutta, e Toto non la pubblicava, quindi tutto dipendeva dall'autista Caffiero, era potentissimo questo Caffiero, però insomma, la sua bravura, la capacità di improvvisazione, la signorilità, vera o comprata, ma comunque c'era, era un piacere, lavorare, lavorare, io poi ci ho fatto tre film soli, ci ho fatto Diabolicus, i due colonnelli, e Totò contro i quattro, i due colonnelli, quello famoso, il comando tedesco, mi ha dato carta bianca, quello, quello, l'ho raccontato in televisione, qualche settimana fa, era, la storia della guerra in Grecia, della guerra, la sfortunata e non necessaria invasione, della Grecia da parte dell'Italia, dove ci hanno, spezzeremo le reni alla Grecia, no, ci hanno fatto un culo così, e in quel periodo, questo film raccontava la storia di un paesino che veniva occupato alternatamente dagli italiani e dagli inglesi, che avevano le stesse fidanzate, le stesse cari, cioè qua da lì avevano gli inglesi, si fidanzavano loro, poi con le stesse donne, gli italiani si fidanzavano loro, era così, però non era male, c'erano delle cose carine, e c'era un tedesco, perché eravamo ancora alleati con il germanico, che era però, sono sciocchino, già all'epoca, e ogni tanto dava degli ordini a Totò, che era un colonnello dell'esercito italiano, e Totò cercava di resistere sugli ordini quelli più inutili, e questo tedesco gli diceva sempre ti attento colonnello, comando ciamanico mi ha dato carta bianca, questa cosa montava nel film, fino a una scena dove il colonnello ordina a Totò di fucilare delle persone di questo paese, e Totò non vuole ovviamente, si rifiuta, e il colonnello per l'ennesima volta dice ti attento, il comando mi ha dato carta bianca, e il copione prevedeva che Totò a quel punto dispondesse, l'hanno dato carta bianca, e ci si pulisca il culo, ed era, insomma, una battuta liberatoria, e Totò non la voleva dire, disse no, 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 io non la dico questa, ma come venisse, no, no, io non dico cattive parole, non ho mai detto una parolaccia, in cento e rotti film, e non la dico neanche adesso, io quella parola non la dico, e l'altro regista che era steno, poi, no, un uomo che ha avuto una discendenza disperata, li conosco, salutiamo, salutiamo, come Friscia, Friscia, friscia la notizia, parla male e poi saluta, pensa che così ha sistemato, sì, noi facciamo uguale, ladro stronzo, che è di cose, salutiamolo, e becco il bag, che gli frega, cazzi che lo saluti, va bene, comunque, salutiamo Friscia a questo punto, salutiamo anche Friscia, ciao, Sergio, e, insomma, il padre dei ragazzi, che era regista, Stefano Vanzina, detto steno, andò, da Totò, gli disse, andò però, questa è una battutona, è monta, bella, tutto il film, ci prepariamo, carta bianca, gli dice, ma io non dico parolacce, quindi, e allora, ebbe una, una trovata, Vanzina, ebbe un'idea geniale, che già, era una differenza con i figli, che c'è, e, era cattivo, sono cattivo, salutiamo, Vanzina, salutiamo, salutiamoli, e, e, e gli disse, Prince, ho un'idea, perché come in quella scena, c'erano tutti i soldati, italiani, gli attori che facevano i soldati italiani, c'era, che so, Toni Ucci, c'era, Mimmo Poli, che era ciccione, faceva sempre il grassone, nei film, c'era Baghino, che era un altro, figurante a vita, che, stavano lì, e, come da copione, quando Totò reagiva, ci si pulisca, dicevano, bravo, urlavano, allora, il padre dei gracchi, disse, facciamo sta cosa, li facciamo esultare, un attimo prima, così, con la loro esultanza, coprono, la cattiva parola, Totò disse, proviamo, allora, spiegò ai soldati, dice, voi non dovete esultare, dopo che lui ha detto culo, dovete esultare, quando dice, ci si puli, la, bravo, si fece la prova, in effetti funzionava, perché questi urlavano, quindi, coprivano, la cosa, Totò, vabbè, così si può fare, e la scena la girò, non avendo pensato, il poverino, che lui c'era il microfono, c'era un microfono, poi allora c'era dei microfoni, che erano grandi, come un abbacchio, e, e, gli altri no, quindi, guardate il film, si sente perfettamente, la battuta, però Totò l'ha capito, solo in proiezione, semmai ci è andato, a vederlo, però per dire, ecco, insomma, era un uomo che non diceva culo, capito, prendi sempre, certo, certo, però infatti non dico mai, culo, ma vai, prego, coerentemente con la rubrica, che hai tenuto anche stamattina, hai conosciuto un sacco di, di personaggi, beh sì, tanti sì, alcuni però li hai conosciuti, prima ancora di lavorare, andandoci a scuola, tu andavi in classe, ma quelli non erano personaggi, quelli erano dei secchioni, andavi in classe, con Mario Draghi, Draghi, Secchione, Secchione, Secchione ed ex premier, salutiamo Mario Draghi, Mario, quando ti pare, ospite del podcast, quando vuoi, c'è stata la firma sua, su diversi euro, è vero che, è la Secchione, e mani, aspetto almeno, di essere, vinceva tutti i premi, che c'erano a scuola, io andavo dai preti, c'erano la Maria delle gare, la gara di religione, la gara di ginnastica, la gara di ginnastica, lui era sempre primo, pure ginnastica, pure ginnastica, era un bravo a pallavolo, era uno schifo, io non ho mai vinto niente, ho vinto e mi hanno cacciato via dopo due anni, quella è stata la mia vittoria, però Mario era simpatico, devo dire la verità, è sempre stato simpatico, era un ironico, non faceva casino, però non era di quelli che diceva, ragazzi, so, forza, e allora, basta, no, l'avremmo menato, invece, stava là, che stava, lui si divertiva, se c'era casino si divertiva, e noi ci divertiamo con lui, quindi è stato un compagno piacevole, poi nella stessa classe c'era Montezemolo, capisci, nella stessa classe Luca Cordero di Montezemolo, c'era Gianni Di Gennaro, che poi è diventato capo della polizia, non so, era fra quelli della scuola Diaz, a Genova, non fra gli alunni, però, quindi, negli altri, tutte eccellenze, fra i menanti, sì, esatto, certo, certo, era, diciamo, dall'altra parte, e poi c'era, quell'altro, come si chiamava, un commercialista, un sindacalista, insomma, c'erano persone, che poi nella vita, hanno fatto strada, e infatti a me mi hanno cacciato, perché l'hanno cacciato a te, che hai fatto? tutti studiano, gente che diventerà importante, lei che sta a fare, mi hanno cacciato per la condotta, pensa che è strano, un'ingiustizia, chiaramente, un errore giudiziario, mi hanno cacciato per somma di ammunizioni, diciamo, un po' come succede nel calcio, perché avevo litigato col preside, e pensando di essere soli, io e lui gli avevo detto delle cose, che invece avevano sentito tutti, e non furono gradite queste cose, gli avevo detto, e poi fu determinante, c'era un bidello, c'avevamo un bidello, che faceva anche da sorveglianza, ed era un ex maresciallo in pensione, non si sa di che, però era un maresciallo in pensione, uno, l'altro era veneto, di quelle parti là, e parlava tutto così, allora, magari, basta, le ho detto, finiamola, così, e aveva una caratteristica, fisica, era strabico, a livello cinerama proprio, c'era un occhio qua, e uno qua, strabico divergente, non capivi mai veneto, cosa stesse inquadrando, e una volta, mi fece un rimprovero, immeritato come tu, poi, pensare, e io, gli dissi, c'erano anche, purtroppo, i testimoni, i compagni, gli dissi, maresciallo, ma insomma, ma se la prende, mi meraviglio, una persona come lei, di così larghe vedute, e questa cosa, mi fu fatale, perché, lui la disse al preside, il preside mi fece, un cazziatore, punizioni, no, sempre stato punito, dai presidi, e, però, la mia soddisfazione, pur se maligna, è che io ho conosciuto, gente che è andato, in quella scuola, molti anni, dopo di me, e quando, io gli dici, chi ci avevate, il bidello chi era, larghe vedute, ancora non chiamavano così, un battesimo, che gli è rimasto, per tutta la vita, ecco, vabbè, poi però, mi hanno cacciato, errore giudiziario, e finì, in un'altra scuola, sempre dei predi, io ho insistito, con i predi, però, passando la liscia, perché nessuno, mi ha mai molestato, qualcuno, qualcuno, qualcuno era deluso, qualcuno ci è rimasto male, forse, speravano, che confessassi, ma no, no, avevo, sempre avuto, buoni rapporti, con i sacerdoti, che erano, poi, di tutti i tipi, sono pure quelli, impommati, quelli simpatici, erano, uno diceva le parolacce, però, in quest'altra scuola, dove, andiedi successivamente, non c'era, Draghi, non c'era, Montezemolo, non c'era, Di Gennaro, eccetera, ma c'erano, De Sica e Verdone, c'era una scuola, un cine panettone, e io mi trovai là e diventai loro amico, anche se non andavamo nella stessa classe, perché ero un po' più grande, però ho vissuto tutti i loro drammi, il dramma principale era che De Sica era, sto cercando un eufemismo, un po' coglione, diciamo, all'epoca, pure qua naturalmente, salutiamo, 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 salutiamo Cristian, quando vuole, può replicare, quando gli va a lui, no, ma lo dico con affetto, nel senso che poi siamo amici, però allora era così, era grasso e un po' montato, perché era il figlio di De Sica, capito? Cioè noi eravamo tutti, era una buona scuola, buona, però arrivavamo tutti col tram, col motorino, in due cavi, spade e un altro, e eravamo, lui arrivava con la Mercedes Argent, con l'autista in livrea, con i stivali, che scendeva dalla macchina, si levava il cappello, signorino, e alle finestre del palazzo, dove era la scuola, c'erano, sulle cento persone, che aspettavano quel momento ogni mattina, e al momento De Signorino, col cappello, partiva, il coro di apprezzamento, il simpatico ritornello, De Sica, del bucio, del culo, vaffanculo, che per un periodo, lo ha perseguitato, se non si è la verità, poi gli dicevo, il caro, e se ne andava, però, ma sembra un film, è vero, sembra un personaggio, e lì è nato, sono nata le cose, che è successo, che Carlo, perdona, a un certo punto, è diventato suo compagno di classe, anzi, Cristian è entrato nella classe, dove c'era Carlo, Carlo era invece uno simpatico, era divertente, era amato dai compagni, poi faceva le imitazioni, imitava i professori, cosa io, ho preso la maturità, imitando il preside, quindi, so cosa servono, se uno preside, tanto tanto, un po' megalomane, e tu gli fai l'imitazione, agli spettacoli della scuola, era fantastico, lui mi chiamava, quando io entravo la mattina, il preside che stava nel corridoio, a guardarci entrare, quando mi vedeva, mi chiamava, diceva Magalli, vieni qua, e gli andava, dica, cretino, imitami, allora io facevo la voce, e lui era contento, e diceva, va bene, sei un cretino, va in classe, e così, sono andato avanti così, praticamente, imitando padre Santoloci, che era il nostro preside, e a lui ci teneva molto, perché agli spettacoli che io presentavo, perché io nasco presentatore, proprio da, fin da piccolo, proprio già quando facevo vedere le cose, alla Lollobrigge, ero già presentato, presentavi qualcosa, ti posso presentare, e, e, la, agli spettacoli che presentavo, la premiazione, cose, eccetera, e il preside li voleva fare, perché c'erano sempre i genitori che venivano, e i genitori dei miei compagni, erano intanto, De Sica e la Mercader, perché c'erano tutti e due i figli, c'era anche Manuel, il fratello, poi c'erano i figli di Leone, quindi veniva Giovanni Leone, allora presidente della Camera, futuro presidente della Repubblica, con Donna Vittoria, con la moglie, che c'erano i tre figli lì, poi c'era, che ne so, il cardinale Traglia, che era un ex alunno, c'era tutto questo parterre de roi, e il preside ci teneva, e quindi io ogni mese mi toccava fare uno spettacolo, la festa dei fiori, la festa della mamma, la festa dell'elementario, ogni mese stavo lì sul parco, e facevo le imitazioni, compresa la sua, la prima volta che la feci, sfidai la morte, perché poi il preside era cattivissimo, e io dissi oggi voglio fare un personaggio nuovo, che non vi ho mai fatto, ma un personaggio che tutti conoscete, siccome il preside la mattina si metteva alla finestra, per vedere se arrivavano in ritardo, chi non ce l'ha negli occhi, l'immagine di quest'uomo autoritario, affacciato al fatidico balcone, con la sua voce stentoria, caratteristica, e tutti, ovviamente hanno pensato, che facessi lui, e invece feci quella, con le sue frasi, dove vai, carretino, allora ci fu una grandissima risata, il preside capì che lo avevo imitato, rimase incerto se uccidermi, espellermi da tutte le scuole del regno, o perdonarmi, poi vede che tutti ridevano, erano, battevano le mani, erano contenti, allora salì e mi abbracciò, e io lì ho preso la maturità, perché ero maturo, in quel momento ero già maturo, bellissimo, perché feci la sua imitazione, e De Sica, mi ricordo una volta, commentatore, erano tutti commentatori, pensate adesso lo so io, non mi frega a cacciare nessuno, e De Sica, che veniva a vedere, una volta mi chiamò, oh De Sica, mi chiamò, padre quindi diciamo, De Sica padre, scusa caro, ti vorrei parlare, si prego commentatore, no volevo parlarti di una cosa, tu sai, che io ho due figli, dico sì lo so, li conosco, ecco, conosci Manuel, loro lo chiamavano, alla spagnola, perché la moglie è, Manuel, dico sì lo conosco, musicista, bravo, lui è un bravissimo musicista, lui scrive, le musiche fantastiche, e io lo voglio valorizzare, voglio che abbia la sua platea, allora ho deciso una cosa, voglio affittare Lilton, vabbè meno male, il Colosseo no, ci arriveremo pure al Colosseo, però Lilton, vabbè, dico per fa' che, voglio fargli, voglio fare uno spettacolo per lui, dove lui esegue le sue musiche, e invitare tutti i giornalisti, critici musicali, persone dell'ambiente, che così lo conoscono, lo apprezzano, eccetera, io gli volevo dire, vabbè, perché mozza di a me, questa cosa, mi sembra una bella idea, e naturalmente, per condurre questo spettacolo, potrei chiedere a Corrado, a Buongiorno, però, penso che, lo faresti bene tu, perché tu sei bravo, e poi sei un amico, hai la stessa età, a quella, sì, porca droga, e dovetti dire di sì, e lo feci, questa cosa qua, e lui però, la cosa terribile, preparati a scusarti, di nuovo, a salutare, preparati a salutare, perché lui, continuato a dire, perché Manuel è bravo, perché Manuel merita, perché Manuel è fantastico, perché Manuel è un grande musicista, e avviene di sì, ho capito, ma di Cristian, cosa vogliamo dire, che ne pensa, e lui, ora non me lo scorderò mai, arzò l'occhio e il cielo, e disse, ma, qualche santo l'aiuterà, lo giuro, questa era la, ciao Cristian, salutiamo, salutiamo, apprezzosamente, questa era la considerazione, che aveva del figlio, che poi, per carità, invece è stato bravissimo, ha fatto una grande carriera, ha guadagnato tanto, ha fatto film, però, a quell'epoca, quando glielo chiede, mi disse, qualche santo l'aiuterà, e così, nemo profesa in patria. E il concerto a Lilton, poi comandato? No, bene, siamo usciti vivi, tutti quanti, però, le aspettative del commendatore, furono un po' deluse, perché nonostante, Manuel fosse bravo, perché era bravo come musicista, e lì ci fossero tutti, eccetera, eccetera, non l'ha fatto lavorare a nessuno, nel senso che, lo faceva lavorare il padre, lui ha fatto, per esempio, la musica del Giardino dei Finzi Contini, bellissimo, ha vinto dei premi, però era il padre che lo faceva lavorare, se poteva risparmiare a Lilton, glielo faceva fare uguale, insomma, no? E così, quindi, sempre presentatore, però, a un certo punto, anche animatore, antelitteram, antelitteram, adesso traduci, perché lui c'è rimane male, io, sì, sai cosa? Gli danno fastidio a lui, sai cosa? Io come, come è totale, parolacce, non le posso, le posso sentire. Ha cattive parole, non le vuole dire. No, era successo, perché io ho fatto, ho fatto troppe cose, nella vita, a un certo punto, siccome ero diventato amico di Gianni, i buon compagni, eravamo vicini di casa, avevamo fatto delle cosette, per divertirci, ridevamo molto con Gianni, e lui voleva fare la radio, perché lui veniva dalla Svezia, era andato, lui dice, di Arezzo, era andato a vivere in Svezia, perché Arezzo si annoiava, del resto, a Giostra e Saracino, quando hai visto due volte, basta, non è che ho detto per tutti gli anni, a Giostra e Saracino, che andò in Svezia, dove c'era fra l'altro, un panorama politico innovativo, c'era questo socialismo illuminato, come lo chiamavano, lui voleva andare a vedere, andò, stette diversi anni, a fare lo sguattero, perché in Svezia, se non sei svedese, non ti fanno uscire dalla cucina, però, faceva lo sguattero, però ha fatto tante amicizie, per esempio, Marenco, il matto di Marenco, ha conosciuto là, che Mario era architetto, con indirizzo di design, di mobili, e aveva vinto una borsa di studio, per andare a studiare i mobili svedesi, che all'epoca erano considerati all'avanguardia, eccetera, e lì a Stoccolma si sono conosciuti, due matti si sono trovati subito, hanno fatto delle cose, un compagno di Marenco, di rara bellezza, perché non lo matti, cioè, che ne so, mio padre aveva la mania della cinepresa, c'era il Superotto, le cambiava ancora, ogni volta che cambiava la cinepresa, mi toccava andare allo zoo, perché doveva fare il filmino, per provare la cinepresa, il filmino ero sempre io, e davo le mere agli orsi, che, insomma, alla fine, gli orsi erano ingrazzati, io non mi divertivo, però, per far contento papà, era fisso, il filmino, allo zoo. Gianni, che aveva la stessa passione, cinepresa, se poi telecamera, eccetera, che faceva per inaugurare la telecamera, andava allo zoo? No, portava Marenco, a piazza di Spagna, si metteva sul marciapiede, di fronte, e riprendeva Mario, sconosciuto, ovviamente all'epoca, che a quattro zampe, mordeva le caviglie dei passanti. per capire il livello, quello è, andava, con la gente che scappava, quella era la prova della telecamera, e ci sono ancora, sei filmati, la Barbara, la figlia, questo faceva, oppure girava Mario, con un uovo in mano, e quando vedeva la persona giusta, velocissima, invisibile, pum, io lo tiravo addosso, da davanti, proprio, mentre si incrova, pum, li tiravano, e poi, perché appunto, come si diceva, il genio, la perfezione, andava vicino a questo, colava uovo, e faceva, ma nonna, che mascalzoni, disgraziati, delinquenti, ma che gente, che gira, cioè, Camilo lo confortava, che se solo quello l'aveva visto, l'addobbava, però, non lo vedevano mai, e Mario era, così, un folle, però ha inventato tutte, quelle cose, divertenti, personaggi, no, dell'alto gradimento, quelli, nascono tutti da scherzi, che lui faceva a casa, ve lo ricordate, il generale Bottiglione, colonnello Bottiglione, era un personaggio, non si pensava, niente, questi, questi, le hanno operati tutti, intorno ai 15 anni, che sono stati operati, era un personaggio radiofonico, che faceva molto ridere, di un militare, che diceva delle cose, a caso, nasceva, da uno scherzi telefonici, che faceva Mario, per usare, l'amplificatore telefonico, di Gianni, che allora era, una novità assoluta, mettevamo, l'amplificatore, tutti gli amici intorno, e Marenco chiamava, il servizio meteorologico, dell'aeronautica, alle due di notte, quello di Aeronautica, servizio dell'aeronautica, e lui diceva, buonasera caro, sono il generale Bottiglione, e quello diceva, comandi signor generale, agli ordini, passami un tuo superiore, che diceva, ma non c'è nessuno, a questo è solo io, chi sei tu? Sono il tenente Lepurini, bravo Lepurini, ti chiamo perché, verso le 23 e 52, ho avvertito un movimento, su sul torio ondulatorio, con propagazione nord-est-sud-ovest, il lampadario della sala, tremava con oscillazione, e andava in una serie, di dettagli inutili, tenendo sto poraccio, al telefono anche un'ora, un'ora e mezza, e questo diceva, guardi, e noi veramente, signor generale, non ci risulta, non ci hanno comunicato, nessun terremoto, passami un tuo superiore, non ci sono, sono solo io, e allora guarda, saranno state le 23 e 52, massimo 53, quando questo movimento, il lampadario, ricominciava da capo, e quello poveraccio, sta lì, si voleva ammazzare, ma pensando, perché poi parlava bene il militarese, perché il padre era un ammiraglio, il padre di Marenco, quindi quello ci credeva, e non aveva il coraggio di mandarlo a quel paese, e lui faceva, e poi questo lo ha portato in radio, è diventato uno dei tanti, cioè tutto nasceva così, dalla vita, dagli scherzi, dalla voglia di divertirsi, a loro facevano delle cose da pazzi, da geni pazzi, allora a Roma c'era un ristorante, loro avevano vissuto in Svezia, diverso tempo, non pochi mesi, diversi anni, e quindi avevano imparato lo svedese, che è una lingua, c'è gente che la parla, e la cosa sorprendente, c'è anche gente che la capisce, quando quelli che la parlano la parla, loro lo parlavano bene, e allora al loro divertimento, c'era un ristorante, allora una tavola calda, accanto al cinema Barberini, su via Barberini, non mi ricordo come si chiamava, un po' chiedo perché siete stati disattivati nel 2000, ed era pieno di stranieri, sto posto, e loro andavano, sapendo che c'erano gli svedesi, allora quando vedevano un tavolo, con due o tre svedesi, che prendevano il gelato, loro si sedevano accanto, e dopo un po' mi dicevano, in un inglese, good morning, sorry, where are you from? svedese, 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 svezia, svedese, svedese, so you speak svedese, molto, very difficult language, very difficult, svedese, allora dopo un attimo cominciavano a fare, word, parole, very differente, per esempio questo, how do you call this one? e quello diceva, oh this one, balado, balado, and this one, a katra da, si facevano di tre parole, abbottì il cucchiaio, il tovagliolo, e cominciavano a parlare svedese, dopo un attimo, e quelli dicevano, complimenti, noi impariamo molto in fretta, è geniale, bellissimo, è geniale, perché gli svedesi, questo io l'ho imparato da Gianni, perché con gli svedesi non avevo avuto tanti rapporti, gli svedesi non hanno senso dell'umorismo, se no diventerebbero francesi, inglesi, e invece non avendo, loro si trovano bene in Svezia, nessuno scherza, nessuno ride, tanto che Gianni se l'ha fatto, quando stava a Svezia, se l'ha fatto i biglietti da visita, con scritto lavapiatti, discare, Gianni con compagni discare, vuol dire lavapiatti, e nessuno svedese a rizzo, vedendo quel biglietto, lo prendeva, lo vantava e diceva, oh, discale, oh, una domanda, che facevano tutti gli svedesi, era, siete italiani, e chiedevano, come siete venuti dall'Italia, che te ne frega, e allora Gianni raccontava sempre questa cosa, agli svedesi, cioè è stata un po' lunga, un viaggio lungo, perché siamo venuti con l'autostop, autostop, sì, abbiamo avuto delle difficoltà, perché eravamo io e un mio amico, e il mio amico è un musicista, e si è voluto portare lo strumento, perché è il suo strumento, poi dice nel viaggio, insomma un po' di musica, ci tiene compagnia, solo che lui suona il pianoforte, e quello era un po' scomodo, perché nelle attese era buono, perché io mi mettevo col dito, e lui dietro suonava, però poi dovevamo fermare solo macchine, col portabagagli, sopra, e poi legare, mettere il pianoforte, e nessuno gli ha mai detto, ma che cazzo stai andando a meci, nessuno, dicevano, oh, questo per capire, insomma, il senso dell'umorismo dello svedese, quale fosse, e vabbè, lui aveva sposato una signora svedese, non particolarmente, noi le svedesi avevamo, concetto da svedese, insomma, gran patatona, ma invece, invece no, no, io avevo le prove, perché io da ragazzo andavo in Maremma, vicino Castiglione della Pescaglia, e lì c'è un camping, c'è il villaggio, c'è il villaggio proprio loro, maniaco sessuale, ma l'hanno raccontato quando ero bambino, ero rimasto incattato, e il bambino, dietro la siepe, guardate, svedese, tra l'altro che, arrivavano ogni 15 giorni, una vagonata di svedesi, bellissime, e noi stavamo fuori a aspettare, perché loro erano d'accordo, quindi aspettavamo, quando arrivavano, tu e quella mia, quella mia, poi loro uscivano, e qualcuno rimorchiava, qualcuno, non tutti, però, se non rimorchiavi quella volta, aspettavi il carico successivo, qualcosa alla fine si rimorchiava, però erano tutte belle, c'erano solo due, in tutta la Svezia, così, una si è sposata, buon compagno, e una proietti, per la verità, perché sa chi sta, una donna simpaticissima, intelligente, però, aiutatemi a dire, insomma, va bene, comunque, su questa, vi lascio un attimo, su questa nota, la stiamo salutando? No, la ringraziamo, c'è la vescica del pozzo, c'è quel problema lì, sì, e, quella di Gianni, bella non era, però c'era i soldi, e quindi, con l'aiuto della moglie, Gianni venne a Roma, comprò la casa accanto alla mia, diventavamo amici, poi lui voleva fare la radio, e io lo aiutai con i miei genitori, che avevano, conoscevano un dirigente, il direttore proprio della radio, gli procurarono un appuntamento, perché allora davano gli appuntamenti, i direttori alla radio, volendo, e Gianni andò, rimase simpatico, e quando venne l'idea di questo programma, molto innovativo, che era Bandiera Gialla, programma che nasceva in Inghilterra, i dirigenti là e dissero, ma questo è un programma molto rischioso, chi ci mettiamo un conduttore, Corrado, chi mettiamo, se poi va male, ce lo bruciamo, ecco, non tutti preoccupati, ho uno io che pure se si brucia, non lo conosce nessuno, e ci misero un buon compagno, che invece lo fece benissimo, diventò famoso, l'assistente musicale di quel programma, era Renzo Arbore, quindi si conobbero, ci conoscemmo tutti, in quella fase, ma era un programma curioso, se pensate che era un programma di dischi, di canzoni, che venivano eseguite, e già quello era miracoloso, perché all'epoca alla RAI, c'era la commissione giudicatrice di ascolto, che era una congrega di vecchi e bambini, ex maestri di musica, che in una stanza, una volta al mese, ascoltavano i dischi nuovi, che uscivano, e dicevano, questo sì, questo no, decidevano quali erano trasmettibili, i Beatles furono bocciati, dico solo questo, bocciati per eccesso di fragorosità, quella era la motivazione, cioè i Beatles non si potevano suonare, alla radio italiana, perché erano fragorosi, e quella fu eliminata grazie a bandiera gialla, i vecchi furono murati dentro quella stanza, e non se ne sempre più nulla, però potevamo mandare i dischi appena usciti, questo fu un motivo di grande successo, poi loro erano bravi, funzionava, e il pubblico erano dei ragazzotti che votavano queste bandierine gialle per un brano o per l'altro, e la cosa che oggi è curiosa è pensare che quei ragazzi scelti per caso, erano proprio amici, figli di amici, gente presa così, come capitava, fra quei ragazzi del pubblico di allora, c'era, tutti i ragazzini, Clemente e Jamie Moon, Roberto D'Agostino, Dario Salvatore, Mita Medici, poi c'erano altri, e poi svettava su tutti, Renato Zero, Renato ha cominciato facendo il pubblico a bandiera gialla, quindi insomma furono anni molto carini, molto divertenti, e partì una nuova radio, in pratica, e io ne facevo parte, però questo per ricollegarmi, la domanda che mi ha fatto lui, un'ora e tre quarti fa, grazie che mi hai aspettato prima, mi hai aspettato, mi hai aspettato lo sgrullo per andare avanti, e sappiamo che ci vuole tempo poi, a trovarlo, io facevo la radio, con Gianni, con Renzo eccetera, però mi arrivò la chiamata alle armi, la famosa cartolina, allora era obbligatorio, servizio militare, e quindi dovetti mollare tutto, andare a fare il militare, nell'ultimo Natale di libertà, era Natale, io dico una data che per voi è ancora, c'erano i cartaginesi, era il 1968, nel 68, il 6 gennaio, il 7 gennaio, dovevo presentarmi in caserma, quindi il Natale 67, mancava una settimana alla caserma, ero in un villaggio di montagna, con i miei genitori a fare vacanze, ero disperato, perché dovevo andare a fare soldato, volevo ammazzare, in più era pieno di giovani questo albergo, ma nessuno faceva niente, ci si annoiava mortalmente, io gli ho detto, ragazzi, stiamo a fare soldato, ma posso annoiare, non me lo posso permettere, organizziamo qualcosa, domani gara di sci, domani sera la corrida in discoteca, ma lo facevo per la mia sanità mentale, insomma, per l'istinto di conservazione, però mi videro, che erano in vacanza là, il direttore generale, l'amministratore delegato di questo villaggio, che ne stavano costruendo uno bello grande, e mi disse, ma lei è portato, perché non viene a fare l'animatore da noi, io gli ho detto io, ma doveva fare soldato, e dice, vabbè, ma la congederanno prima o poi, sì, aprile, maggio del 69, e noi apriamo in quel periodo, allora, aprile, maggio del 69, e mi ritrovai congedato, disoccupato, con la RAI non avevo niente da fare, e dissi, oh, ma io quasi quasi vado a fare l'animatore, secondo me, mi faccio le vacanze, pio pure i soldi, che voglio di più dare la vita, andai, mi sono fatto un culo, che non si può descrivere, senza risultati, cioè, i risultati sono stati, ma c'è voluto tempo, era un villaggio di 2000 persone, a me mi hanno mandato, dice, vai verso aprile, e che vuoi fare a aprile, dice, no, c'è la gente, è tutto pieno, dopo aprile, maggio, maggio, prenotatissimo, io vado, dico, vabbè, vediamo, comincio, arrivo a maggio, in effetti era pieno, il villaggio era pieno, erano tutti in viaggio di nozze, quindi si animavano da soli, e alle otto e mezzo, nove di sera, c'era il deserto dei tartari, e io stavo da solo come un imbecille, però poi dopo sono arrivate le famiglie, i genitori, i bambini, e ho dovuto imparare a fare l'animatore, un mestiere che non aveva mai fatto nessuno in Italia, io sbagliando, facendo errore, ho imparato, tant'è vero che poi dopo andava bene, la gente, pensate la gente come sta messa, andavano a prenotare, alla fine del soggiorno, dicevano, vorremmo prenotare per il prossimo anno, se c'è Magalli, dei disperati, quindi io l'ho fatto per qualche anno, e questo provocò, poiché nel frattempo, nacque una società che aprì diversi villaggi, che era la Valtour, e cercavano animatori, ma gli animatori non c'erano, c'era solo quest'uomo qua, e allora aprirono una scuola, Dostuni, e mi presero come docente, in questa scuola, l'unica scuola dalla quale non mi hanno cacciato, perché ero io, e facevo le lezioni, e lì, fra gli allievi che ho avuto, c'era anche Fiorello, c'è stato anche Fiore, che era un giovane, portato, perché era simpatico, era caruccio, era bello, non c'è bisogno di salutare, era molto, e quindi insomma, poi lui era, si capiva che sarebbe diventato un ottimo animatore, e quello ho fatto, per un periodo ho fatto l'animatore, però mi è servito, volevi chiedermi questo? Volevi chiedermi se me l'ha servito? Mi è servito perché non è, no io lo capisco, ormai c'è una certa empatia, Certo, certo, ormai basta uno sguardo, basta, dopo lo sgrullo, e allora, avevamo visto, c'era questa, abitudine, di assumere, prendere per una sera, degli artisti, degli attori, per venire a fare una serata, per lavorare, lì a pugno chiuso, avevano un po' lo stesso problema vostro, non c'avevano una lira, per pagarli questi artisti, e quindi io dovevo prendere, no no, c'avevo un budget, ma era molto meno ridotto, dovevo prendere gente che costasse poco, avevo un impresario lì a Bari, perché questo villaggio era pugno chiuso sul Gargano, c'era un impresario a Bari che mi dava quelli che costavano poco, che erano però, non è che erano scrausi, erano giovani, quindi non erano conosciuti, non potevano chiedere casce alti, però gli sconosciuti dell'epoca, erano i Gian Cattivi, i Gatti di Vicolo Milagro, i Marco Messeri, i Lino Banfi, cioè tutta gente che poi è diventata molto famosa, e io li prendevo, li ho conosciuti, ci ho fatto amicizia, e quando qualche anno dopo, mi avventurai a scrivere un programma televisivo, su richiesta della RAI, mi dice facciamo un programma per aiutare i giovani, una cosa nuova, fatti venire un'idea, eccetera, e l'idea mi venne e feci no stop, scrissi no stop, e misi molti di questi, infatti in no stop c'erano i Gatti di Vicolo Milagro, c'era Beruschi, c'era Marco Messeri, tutta gente che aveva lavorato con me al villaggio, che avevo conosciuto il villaggio, più Troisi e la Smorfia, che invece me li avevano segnalati, era andato a Napoli a vederli, quindi l'animatore mi è stato utile, proprio per fare l'autore, diciamo, televisivo. E invece, non so se ne avete parlato prima, da animatore a televisione, com'è stato il passaggio? Appunto c'è stata la cosa intermedia dell'autore, perché fra le persone che avevo scritturato, c'era anche Pippo Franco, salutiamo o no? Sì. No, si capisce, ci ho lavorato 13 anni con Pippo, io ho scritto tutto, teatro, cinema, radio, televisione, tranne il bagaglino, e quello c'erano i suoi autori, eravamo molto amici, e quando facevo l'autore per lui, lui poi cominciava a crescere, lo chiamavano alla radio, gli dicevano, lei verrebbe a fare, e lui diceva, sì, però c'è il mio autore, Magali, benissimo, e allora poi mi dicevano, ma lei scriverebbe per qualcun altro, e io ho detto, se mi hai pagato, parliamo, e allora scritti per D'Angelo, per Lionello, per altri, eccetera, e si sparse questa voce tendenziosa, che era un autore, fino a che un dirigente, lei mi chiamò, e mi chiamò, se vogliamo fare questo programma nuovo, però ci serve un autore giovane, nuovo, una mente fresca, come potrebbe essere lei, e io ci provai, e scrissi No Stop, che fu un grande successo, e molti dissero, ma allora forse questo, non è scemo come sembra, insomma, da fare, e No Stop è stato il primo, capito, perché poi dopo, mi hanno fatto fare altri programmi, che sono andati, anche quelli, abbastanza bene, fino, sempre come autore, ho fatto pronto Raffaella, ho fatto io, avete credito, pronto Raffaella con la Carrà, quella vera, quella in carne d'ossa, io ero l'autore dei fagioli. Ah, quello di indovinare, quanti fagioli erano dentro la... E lei si incazzava, perché ogni tanto diceva, ma perché i fagioli della Carrà, e lei diceva, non sono i fagioli della Carrà, sono i fagioli dei Magalli, l'ha inventato lui, che non gli piaceva, la definizione, i fagioli della Carrà, ma va bene, Raffaella, ho comprato casa, no, lei ha comprato casa da me, prima glielo a fare, ci conosciamo, non siamo conosciuti, frequentati, per tanto tempo, e lei era fortissima, molto forte, io ho assistito a un pezzo di metatelevisione straordinario, che oggi è dirlo, un giorno, lei faceva, stavamo facendo pronto Raffaella, allo studio 3, lì a Teulata, si sparge la voce, che era a Teulata, madre Teresa di Calcutta, che non si sa che era venuta, era venuta, c'era un'intervista con uno, di un altro programma, però siccome gli sembrava brutto, sprecarla così, già che sta qua, portamola dalla Carrà, e allora ci fu questo incontro, fantastico, perché nessuna delle due sapeva chi era l'altra, madre Teresa di Calcutta, mai sentito parlare della Carrà, non l'aveva mai vista, e Raffaella, idem, però si sono parlate, gli hanno detto velocemente, è una suora, farle bene i malati, lei si è adeguata, è venuta una bella intervista, guarda che è una follia, un'intervista fra due che non si conoscono, non solo che non si conoscono, ma che non sanno l'uno dell'altro, cosa fa, chi è, perché, che cosa chiedeva, a madre Teresa della Carrà, se non sapeva, le chiedeva qual è l'aspetto più bello del suo lavoro, che lo puoi chiedere pure all'idraulico, non è che è necessario, avere la santa, però d'altronde che gli doveva chiedere, non è che gli poteva dire, senta ma la lebra secondo me, lei poi già c'aveva Iapino, salutiamo, salutiamo, quindi, quella però è stata un'esperienza formativa, Raffaella, questo programma era nato così, pronto Raffaella, intanto lo doveva fare Gianni Morandi, noi avevamo pensato a lui, perché piaceva le massaglie, le casalinghe, poi lui ci ha ripensato, maledetto, ci ha messo in crisi, ma io ho il numero 100, però, perché tutti i giorni, è lungo, è difficile, io ci ho pensato, e ci ha detto no, era Gianni che era stato fidanzato con la Carrà, capisci? In che posti era entrato? No, la Rai, gli dico, la Rai, guarda, sono malizioso, guarda, sono tremendo, sono tremendo, sono tremendo, io non lo so perché, perché fanno così questi, l'avete rovinato, erano un bel pubblico, prima, erano stati fidanzati, quindi la conosceva, disse, facciamolo fare a Raffaella, e dico, ma Gianni, che è un programma di interviste, medici, forse un qualche santo, come faccio? E lui disse, guarda che lei impara tutto, è bravissima, impara, e infatti è vero, lei si imparava tutto, i testi che gli preparavamo, sembrava bravo, un po' come voi, ecco, la gente, guardava, diceva, sanno quello che dicono, e non sanno quello che dite voi, però, e quindi, fu bello, fu un grande successo, che portò la Carrà, a livelli, di onniscienza, anche, guariva i malati, voi ci hai scherzato, una signora, schisse una lettera, all'inizio della prima edizione, dicendo, Raffaella, io le voglio molto bene, le sono molto grato, perché ho una bambina, che non parla bene, forse la dislessica, non so, non parla, ormai ha 3-4 anni, ma non riesce a parlare, e da quando c'è il suo programma, la mia bambina ha imparato a cantare la sigla, che avevo scritta io, quello, lato taumaturgico, era il mio, e per me è una gioia, sentire questa bambina, che non ha mai parlato bene, che canta, la sigla di pronto Raffaella, che era quella, felicità, porto fortuna, felicità, la bambina la cantava, e questo diventò sui giornali, Raffaella fa parlare i muti, non era assolutamente vero, però si cavalcò questa cosa, e io ogni giorno avevo paura che ci portassero i ciechi, i sordi, la gente da guarire, in studio, però lei un po' si raccontava così, io faccio parlare i sordi, dico brava, dico fa parlare pure i ciechi, quello è più facile, dico magari, ti impegni di meno, e a un certo punto mi disse, voglio il Papa, e se la fanno, voglio il Papa, lo devi invitare, devi venire qua, nel nostro programma, farsi intervistare, e stare a ferma, e il Papa non va nei programmi televisivi, allora, allora non andava nei programmi televisivi, che Papa era, ti ricordi? Era Giovanni Paolo II, dico quindi, non mi puoi dire che il Papa non viene, fin quando non glielo hai chiesto, e lui ti ha detto di no, ma lui mi dice niente, ma non ci parla con me, che mi deve dire il Papa, poi io chiamo il Papa, Papa scusi, lascia per, lei ogni giorno mi diceva, allora quando viene il Papa, non viene la fella, il Papa, va bene, insomma, mi ha dato un tale cordoglio, che io ho dovuto, ricattando un cardinale, ottenere un'udienza, pontificio, i cardinali sono tutti legattabili, vende e fai, e infatti questo ci può riferire all'udienza, generale, non quella privata, all'Aula Nervi, diecimila persone, però noi ci misero in prima fila, andammo con un pullman, dalla Rai, da Via Teulada, con la stradale che ci scortava, arrivammo, ci schierammo, ed eravamo tutti pronti, perché poi dovevamo fare la trasmissione, alla fine, dovevamo correre in studio, e fare la trasmissione, e c'erano i ballerini vestiti da ballerini, gli altri musicisti vestiti da musicisti, la cosa grave è che c'era Zed, vestito da Zed, Zed era il robot, era quello che si muoveva tutto così, e quello è stato nell'Aula Nervi, e tutto il tempo a fare così, perché era nel personaggio, con i capelli di plastica, con le cose, io mi ricordo un cardinale, che si era seduto accanto al Papa, gli occhiali li puliva, se li rimetteva, e lui mi diceva, cazzo è questo, se muove, così, e poi il Papa venne, alla fine, fece una cosa, allora fece il discorso, era sulla catechesi e i catecumeni, che per carità è una cosa, che avecene, però, la fece in sei lingue, cioè ogni volta noi speravamo avesse finito, cioè insomma pensavamo, che avesse finito, e lui li attaccava, la catechesi e le catecumeni, e in francese, poi finiva, a dicatechesi e le catecumeni, e andava in ora, questa cosa incomprensibile, poi vabbè, ha mollato e è venuto dove stavamo noi, ci ha salutato, ci ha dato la mano, buon compagno, mi aveva offerto 100 mila lire, se gliela leccavo, non si può fare, ti do 100 mila lire, io non lo posso, non si può fare, e c'ho la fotografia, dove gliela do, senza lingua, insomma, gli do la mano, lo saluto, eccetera, e lui salutò, e poi vide, Zed, e mi chiese, beh, perché ormai se l'ha fermato, dice, chi è quello? E io dico, ma io lo spiego, dico, santità, è il nostro robot, e lui mi disse, ah, hai il robot, non l'ha capito, ovviamente, assolutamente, allora cambiò il discorso, dice, vedo molti giovani, dico, sono quelli, del balletto, senti dai, ragazzi del balletto, ah, il balletto, devo vedere più spesso la televisione, come a dire, chi cazzo l'ha visto mai a voi, insomma, no, non mi conosco, però è stato affettuoso, poi è andato dalla Carrà, poi faceva delle cose, c'era uno dietro, credo fosse Silvano Binarelli, che faceva apparire dei rosari, cioè, il Papa camminava davanti, a noi, e le mani vuote, guardate, guardate le mani, ridono, perché sono giovani, ma le mani vuote, le maniche, come si fermava davanti a uno, c'era questo, io, il trucco, l'ho capito, quello da dietro, glielo passava, e lui, visualizzava un rosario, e lo regalava alla persona che aveva di fronte, e lo regalò anche alla Carrà, che avendo capito proprio esattamente che cosa era un rosario, se lo mise al collo, come una collana, e poi gli disse, santità, le porto il saluto, di tre milioni di spettatori, e gli disse, ah Raffaele, ce n'è più lui, di tre milioni di spettatori, che gli rimbalza, però, glielo disse, e però, abbiamo esaurito la cosa Papa, non me l'ha più chiesto, dopo voleva l'ambasciatore russo, e quello americano, che facessero la pace, sul divano suo, e anche quello, no, quello non l'ho tenuto, non sapevo chi ricattare, Kissinger, ma non lo so, non ci sono, non ci sono, di scelta, ma che vogliamo fare, e poi, no, che ne so, no, però, cioè noi, ah ormai, ho detto te, però lo sei rassegnato, ormai, no, ho detto ormai, ho detto, noi, per noi va bene, ma pure l'altro, sì, a volte, tratteniamo, a volte sono l'ocorologi, anche gli altri, noi apprezziamo, la chiacchiera, è perfetto, infatti, Stefano, siamo a metà, infatti, sei passi, io sono stato malato, c'ho certificato, a metà, no, ma, quindi, quando è che poi hai fatto, però, il passaggio, davanti la televisione, cioè, dallo schermo, dentro la televisione, sì, dentro, l'ho fatto, poco dopo, perché pronto Raffaella, è stato, negli anni, 83, 84, 84, 84, 85, poi, la carrera è andata in Spagna, a lavorare in Spagna, e, cioè, portando il programma, che era mio, mio tipo un compagno, e lei l'ha rubato, l'ha andata a fare in Spagna, praticamente, beh, o la Raffaella, pure il titolo ha lasciato, e, e, vabbè, insomma, però, lo sapevamo, quindi, dovevamo trovare una sostituta, abbiamo cercato tanto, e, poi, alla fine, anche indirizzati dalla Rai, prendemmo Enrica Bonaccorti, il programma lo cambiamo un po', perché, prima era proprio carracentrico, tutto ruotava intorno a Raffaella, invece, con Enrica, mi mettemmo altre cose, la premiata ditta, Rase, Don Lurio, insomma, c'erano tanti, era molto più, cacerone, però era carino, divertente, e Enrica ha fatto due anni, a metà del secondo anno, Enrica è rimasta incinta, e non mi ha guardato, perché io, quella sera ero al cinema, e, noi eravamo, dette pure l'annuncio in televisione, con me vicino, avvalorando i sospetti, perché, vieni che devo dire una cosa, voglio che tu mi stia vicino, e disse, questa cosa, che era tenera, che fu criticatissima, perché, i stronzi sono sempre esistiti, no, i haters, le cose, dissero, che fa, usa la televisione, per una cosa privata, una cosa privata, aveva detto solo, che era incinta, cosa che si sarebbe cominciata a vedere, dopo un po', lei disse, infatti, prima che lo sappiate, dai giornali, di gossip, ve lo voglio dire, vabbè, la criticano, però, in realtà, poverina, la cosa non andò bene, perché ebbe, una minaccia d'aborto, fu ricoverata, e, buon compagno, ai 5 del pomeriggio, io ancora me lo ricordo, con quelle cose, come quando sono cascate, le torri gemelle, che sai dove stavi, io stavo in cucina, suona il telefono, era buon compagno, e mi dice, guarda che domani, devi presentare te il programma, dico io, eh sì, Enrica sta male, l'hanno ricoverata, tu sei l'unico, perché sei l'autore, che sa quello che c'è da dire, hai le interviste, gli ospiti, quindi lo fai te, boh, vabbè, e il giorno dopo la feci io, l'ho fatta per due settimane, l'ho presentata io, poi alla fine, Enrica purtroppo, il bambino l'ha perduto, però poi è guarita, è tornata, ha ripreso il suo posto, però se l'ha capito che la gente aveva gradito la mia presenza, e siccome l'anno dopo Enrica se ne andò, perché Berlusconi ce l'ha rapì, che ne ha rapiti tanti in quel periodo, e allora decisero di darmi a me quel programma, il mezzogiorno della RAI, poi ho fatto il preserale, poi un altro mezzogiorno, insomma dalla fine non mi sono sollevato di più di torno, ecco, diciamo, sono rimasto a fare questo per una trentina d'anni, quaranta forse, non lo so. E, visto che ora l'hai citato, Berlusconi l'hai mai incrociato, quindi, sì, immagino. i cavaliere, per bacco, per bacco, guarda, la prima volta che ho visto Berlusconi in vita mia è stata in un ristorante, e lui ha sempre detto che non andava a mangiare nei ristoranti, io ero bugiardo già, già allora, insomma, che lui disse, io a Roma non ho mai mangiato in un ristorante, io mangio sempre a casa, non è vero, ho conosciuto in un ristorante, stava a mangiare con Sgarbi, erano lui e Sgarbi, Sgarbi che aveva fatto appena un casino dei suoi, aveva parlato male dei Buitoni, perché non l'avevano invitato a una festa, allora lui in televisione ha detto non mangiate la pasta Buitoni, per vendetta, capirai ve lo Buitoni, ha chiamato la RAI, ha detto vi levo tutte le pubblicità, capirai Buitoni, mulino bianco, i RAI si stavano suicidando tutti, poi l'hanno costretto a chiedere scusa, a fare vendetta, io li vidi, lui stava a mangiare la pasta, io gli disse spero che stia mangiando la pasta Buitoni, che devi riparare, e mi presentò Berlusconi, il quale si alzò in piedi e mi saluto, io gli disse ma la prego, stia seduto, e lui disse ci mancherebbe altro, e io lì ho capito che era un paraculo, ho capito che era un gran paraculo, perché io vabbè si ero, cominciavo ad essere un po' conosciuto, ma ci mancherebbe altro, poi te alzi, fosse stato Berlinguer, ma manco mi avrebbe guardato, mi avrebbe scansato, invece lui ci mancherebbe altro, io ho capito che era uno che si sapeva muovere, che sapeva fare queste cose. Certo. Quindi vabbè, quindi hai fatto, in questo periodo facevi il presentatore, ma io ho visto anche alcune delle interviste, tu hai intervistato anche personaggi internazionali, nelle due varie interviste, ho visto anche un intervista, Alvaro Vidalio, anche Alvaro, anche Alvaro, immagino anche lui, però ma anche ho visto un'intervista alla sorella di Michael Jackson, ma che diceva delle cose grevissime. La toglia. Sì. Quella toglia della sorella di Michael Jackson. Sì, sì, si chiama la toglia, certo. Ma vedi, loro sono, lei rappresentava, rappresenta, gli americani sono diversi da noi, insomma, no? E lo sono anche nelle interviste, cioè qua uno come me viene, non gli danno una lira e dice qualunque cosa. Poi, prendi la parietti, ti dico per dire, e la, salutiamo, prendi la parietti che vuoi soldi, non neanche pochi, insomma, chiede i soldi per un'intervista, però fa bene, per carità, tutto il mio rispetto. Però poi, durante l'intervista, tu dici, ci parli del, perché è finita la tua relazione con Christophe Lambert? Ah, non parlo dei miei fatti privati, e che cazzo saranno da fare? Non è che sappiamo qua perché volevamo la ricetta dello gnocco fritto, volevamo sapere che è successo con cosa. Lei non le dice, gli americani sono diversi, vengono, vogliono i soldi, ma dicono tutto, anche più di tutto. La toglia venne, e io l'ho intervistata su Michael Jackson, ed era, guardate, era stupenda, non so se c'è da qualche parte quell'intervista, era fantastica, perché lei, lei diceva, Michael, mio fratello, lo adoro, mio fratello gli voglio un bene, un bene dell'anima, certo, va con i ragazzini, e lui, ha fatto un lunapark a casa per attirarli, dico, vabbè, dico, però, un grande artista, sì, no, no, sicuramente un artista formidabile, bravo, fa una persona buona, di cuore, adesso vive con una scimmia, credo che abbiano anche dei rapporti, sta con questa scimmia, ci va a letto, cioè, tutta così l'intervista, diceva una cosa normale, poi lo accusava delle peggiori infamie, e io, insomma, rimasti sorpreso. Ma che poi questo è tipo a mezzogiorno, cioè, comunque, era anche orario... No, questo lo facevamo quando facevamo fattivossi di sera, nell'edizione serale, le scimmie dormivano già, ma comunque, ma stupido, perché oggi, cioè, questo era, forse 30 anni fa, quant'era? 20 anni fa? Beh, sì, più di 20 forse. Però oggi non si fa più anche questo tipo di televisione così, di persone che dicono in maniera... Ma io ma lo sapevo che quella avrebbe detto queste cose, sono così, però, vabbè, io ho avuto anche Ivana Trump, Trump, hai visto che è bello? Bello. Cioè, hai visto le presentatrici dei telegiornali come sono contenti quando c'è da dir uno straniero? C'è la Gruber quando può dire Macron. Macron. Il presidente Macron, tutti dicono Macron, e lei Macron. Tutti li chiamano, tutti con questi... Von der Weyen, tutti i nomi... Vabbè. Ivana Trump venne da me, prese i soldi e parlava di Donald. Come la cosa, il tema era come levare i soldi a un vecchio. Questo era il tema. Ha parlato solo... Non la saluto perché è morta, no? Sì, sì, salutiamo Donald, forse. Salutiamo Donald, sperando che la raggiunga. No, per affetto, perché è giusto che si ritrovino. E lei raccontò come ha levato... Cioè, lei a Trump gli ha levato miliardi, poi era fantastica, è come tu immagina se hai una moglie discutete il divorzio. questo lo prego io, questo lo prego io, la casa a Capocotta la prego io, la cabina a Fregene la tengo io. E poi sulla porta dice, ah, scusa, mi sono scordato, e il motorino lo prendo io, tanto te non ci sai andare. Ecco. Quello, il divorzio di Trump era, allora, 10 miliardi li prendo io, tu avrai dati 20 miliardi, poi mi pio questo per la casa a Miami, poi la casa a quella, poi faceva per uscire, poi dice, ah, scusa, mi sono scordato, e il plazzo me lo pio io. Cioè, sulla porta si prendeva il plazzo, il più grande albergo di New York, su Central Park, lei lo ha ripulito, e aveva un brillante al dito, ma anche abbastanza grosso. E io gli dissi, senti, ma pure quel brillante gli hai levato. e davo del tu, perché in inglese se si dà del tu, non esiste il lei, di Ivana. Dico, pure questo viene, e lei ha detto, ah no, questo l'ho levato a quello, che c'era un vecchio, seduto, a un tavolino, che l'aveva accompagnata, un signore anziano, distinto, ha detto, no, l'ho levato a lui. Cioè, lei ha un'abilità sensazionale, e tanto che scrivisse pure un libro, come fregare l'anziano, non so, mi ricordo, cioè, come farsi dare i soldi. Però, erano altri, davano soddisfazione, no? Cioè, meglio una che dice queste cose che la pariette che dice non parlo di Cristofo Lambert. Eh, ma dai, che stavamo chiamati a fare? Ah, sì, sì, certo. Poi ho intervistato pure Abduz Marzuc, però, attenzione. Abduz Marzuc ebbe una specie di embolo quando lo intervistai. Nel senso, no, che mi partì un meccanismo, io c'avevo un copione che avevano pure preparato tutti lì a scrivere, gli autori, le cose, eccetera. Io quando me lo vedi davanti buttai il copione e gli dissi sente Marzuc, le volevo dire una cosa. Io, lui era stato assolto dall'accusa di avere partecipato al delitto di erbo, dico, io ero convinto che lei fosse colpevole e sa perché mi era nata questa convinzione? Perché lei è straniero, extracomunitario, ha tutti questi requisiti che portano a attribuire la colpevolezza anche a un innocente. Sa come si chiama questo? Pregiudizio. E io ammetto di avere avuto dei pregiudizi nei suoi confronti e qui adesso davanti a tutti io le chiedo scusa di averli avuti. Però vorrei sapere una cosa. Quante altre persone le hanno chiesto scusa? E lì ha staccato una pilota. nessuno allegra col cazzo e mi ha chiesto scusa e devo dire venne una bella intervista. Pensa che Mentana che poi insomma uno bravo la sera faceva mix no stand no Matrix ma è una cosa con la X Matrix disse volevo parlare di Marzuc Marzuc volevo farvi vedere e invece ho deciso vi faccio vedere un'intervista che gli ha fatto Giancarlo Magalli che è una bellissima intervista e dice più di tanti e ha mandato su Mediaset a quel programma lì con la X ha mandato la mia intervista perché a volte se c'hai una persona che ha delle cose da dire e riesci a fargliele dire è anche un bel un bel risultato insomma un bel lavoro non come la Ferragni insomma che è? no ho visto un buo sentito strane reazione sono follower c'è Fedez che ha non so se era a favore c'è Fedez nel pubblico quando ha detto a Ferragni buh buh no ma la Ferragni non parliamo amo dell'intervista di Fazio nessuno ce l'ha con lei che non ha risposto come fai a rispondere a delle domande che non ti vengono fatte lei giustamente quando gli ha chiesto qualche cosa tipo un bicchier d'acqua lei ha risposto stava prontissima Stefano siamo siamo quasi in chiusura siamo siamo proprio in chiusura siamo in chiusura di carriera siamo a due ore no voglio chiedere un'altra un'altra cosa e poi fai tu poi c'è lui ma è che poi c'è no ti voglio chiedere questa cosa tu hai fatto anche del cinema no hai fatto anche e ti hai lavorato con con pingitore mi hai detto prima ho fatto una quindicina di film dimenticabili tutti dimenticabili però uno non era dimenticabile qual era? L'Iquilizia ah L'Iquilizia di Sanperi un film strano non male che poi nel tempo è stato anche ben valutato dove i protagonisti eravamo io e Cristian De Sica qualche santo detto qualche santo l'aiuto esatto vi siete ritrovati alla fine siamo ritrovati e la cosa è che ci avevano presi a me e a lui perché l'aiuto regista che era Giorgio Basile l'aiuto regista di Sanperi era stata a scuola con noi quando lesse la sceneggiatura che era fatta da uno sceneggiatore di Milano che quindi non sapeva niente di noi della nostra scuola quando Giorgio lesse la sceneggiatura disse ma si due sono Magalli e De Sica e Sanperi disse chi so e so due stanno a scuola con me uguali uno un po' tronfio che tutti lo pigliano col culo indovinate quale e l'altro e uno fa le imitazioni presenta gli spettacoli e Sanperi dice allora chiamiamo loro se so così faranno bene il personaggio e quindi mi sono ritrovato a lavorare mi sembrava essere tornato a scuola perché De Sica faceva volgari smettete si chiamava Locascio nel film e c'era Locascio del bucio del culo cioè era rimasto tutto tutto uguale quello però non è stato male però che hai fatto anche un film con gli squallor non mi ricordo come si chiamava uccelli d'italia ecco l'avevo dimenticata allora pensa che quel film poi uno si meraviglia quando uscì uscì al brancaccio pensa che era ancora cinema all'epoca faceva e io dissi a mia la mia seconda moglie che allora eravamo ancora fidanzati gli dissi oggi esce un mio film ti andrebbe di andarlo a vedere l'eporaccia disse sì andiamo e andammo al brancaccio già quando arrivi uccelli d'italia insomma non è che era proprio si presentava bene non c'era nessuno in sala hanno state 30 persone il film era assolutamente folle come erano folli gli squallor cioè per dire lo sketch in cui ero coinvolto anch'io era la storia di una rapina in un supermercato e il rapinatore era un cardinale vestito da cardinale che poi usciva scortato dai poliziotti benediceva si inginocchiavano tutti i poliziotti cioè era la follia però però mi sono divertito a farlo poi loro erano talmente forti c'era c'era Totò Savio che scriveva le musiche che era bravissimo e poi c'era Cerruti Cerruti che faceva morire da ride Cerruti un pazzo assoluto però simpatico ci manca molto devo dire anche Gianni gli voleva molto bene ma li hai conosciuti solo per quell'occasione o già li conoscevi? no li conoscevo ogni tanto ci vedevamo anche con Alfredo Cerruti ci siamo visti dopo il film andavamo a cena al matriciano spesso Alfredo era fortissimo Alfredo era di Milano lavorava a Milano si occupava di musica era un talento aveva un fiuto tu gli facevi sentire un disco e lui ti diceva se avrebbe avuto successo non sbagliava mai infatti le case discografiche se lo litigavano perché era veramente un talento e lavorava a Milano una volta venne a Roma perché gli offrirono un lavoro a Roma venne a Roma prese una stanza a Lilton e ci è rimasto 18 anni ha abitato 18 anni a Lilton aveva solo macchine fantastiche era un megalomone però divertente divertente e lui con la Carrà aveva un bel rapporto faceva molto ridere che la Carrà era un pochino un bracino un po' corto insomma era attenta alle spese diciamo e Alfredo si incazzava perché lui invece era uno spendacione spendeva molto più di quello che guadagna e allora gli diceva a Raffaella lui ti ricordi la voce di Alfredo era il 38 luglio e gli diceva che cazzo ci devi fare con questi soldi che ci devi fare ci devi foderare la cassa da morto ci devi foderare e Raffaella gli diceva io no però io sono previdente e io non spendo perché voglio avere una vecchiaia serena e Alfredo dice vabbè è vecchia sei serena pure non ci rompe i coglioni era fantastico non rispettava nulla e nessuno però è così insomma lui beveva una bottiglia di vodka e una di whisky a pasto fa conto era esagerato in tutto quando stavi con lui e diceva vabbè Alfredo dai ora andiamo via ma come andiamo via adesso dai fumiamoci un'altra stecca di Malboro una stecca di Malboro lui era eccessivo in tutto infatti è morto giovane come Daniele Pace come Totò Savio però dei geni in assoluto anche loro bello a proposito di eccessi c'è una rubrica all'interno di questo podcast per cui chiedo a tutti a tutti gli ospiti che rapporto hanno se ce l'hanno o hanno avuto con la marijuana con la marijuana di persona di un rapporto personale ma io qualche droga l'ho incontrata per strada insomma erano tutte novità quindi uno dice vabbè la novità fammela provare un po' come la Tesla no? vediamo come va però devo dire devo dire che la la marijuana non mi ha mai dato grandi giochi vedevo gente che rideva senza motivo io no non mi ha mai esaltato insomma c'è chi passa il mal di testa chi dorme meglio la vanoni fa tutto meglio tutto quello che fai vi è meglio pure dire le parolacce per cui insomma non l'ho molto seguito è capitato se capita in giro uno se la fanno girarla chiapi ma non è cosa invece un po' la delusione un po' la delusione sa la cocaina come mai l'illusione ma perché ho scoperto con studi scientifici condotti sui miei amici fra cui voi insomma che la cocaina in realtà fondamentalmente è un amplificatore di quello che sei cioè se sei una persona allegra con la cocaina diventi molto allegro anche troppo se sei una persona triste diventi tristissimo se sei una persona loquace diventi un cacacazzi infernale quindi tutto sommato non mi ha non mi ha aggiunto nulla la curiosità c'era ho provato purtroppo l'ho provato con una persona che non nomino che perché magari non ha piacere a dirlo è anche uno dei pochi ancora vivi di quelli conosciuti che era loquace è mare incoglionato ha parlato tutta la sera tutta la sera e poi io non so ero presente a me stesso cioè mi rendevo conto che stava dicendo delle stronzate terrificanti lo capio si sentiva ma lui invece era convinto di dire delle cose geniali mi dice vedi me le dovremmo scrivere ste cose me le scrivo perché poi me le scordo dico ma ringrazio a Dio che te le scordo spero di scordarmene pure io perché ho capito vedendo queste cose dico no se poi faccio sta fine poi in realtà pure quella non mi ha mai dato grandi poi che appare che insomma ho provato tre volte non mi ha mai dato grandi gioie quindi ho detto ma perché quando ho realizzato che io non l'avrei comprata manco se l'avesse venduta al tabaccaio ho detto allora lasciamo perdere insomma tutto sommato inutile e non ne ho molto sentito la mancanza e qual è invece che hai apprezzato eh qual è apprezzato invece di droga no nessuno a parte a parte l'argomento da Garfagna insomma diciamo quel tipo quel tipo di roba là ecco quella naturale della roba naturale che non si fuma non si aspira non si ispira un'annusata io la puoi dare ma insomma non è diciamo e rimane là insomma che fa dei danni per carità fa danni terribili perché poi se ti abitui se ti abitui sono cavoli noi però insomma io mi diverso di più notare l'uso del verbo presente e allora forse su quest'uso del verbo presente un altro applauso per Giancarlo Magano grazie 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 mille grazie se vi va fatelo anche a Stefano Tavone a Smog a Botanicalab fatelo un applauso a voi che siete tantissimi al pubblico che salutiamo e un altro all'ordine grazie io mi sono a tutti ciao a tutti ciao ciao grazie grazie